Sì, questa è la prima volta che il Ministero dell'Ambiente viene coinvolto sulla materia delle macerie dell'Aquila, abbiamo messo insieme un tavolo che mi sembra con spirito molto costruttivo, ha redatto un cronoprogramma che prevede una serie di azioni e ci impegneremo a dare il supporto tecnico necessario al Commissario Chiodi per attrezzare i siti che sono già stati individuati, tre siti, adesso viene un altro che deve essere vagliato sul piano tecnico, un sito più grande, credo che però si sia preso atto che la precedente procedura aveva delle oggettive difficoltà in capo ai comuni perché la normativa è una normativa complicata sia quella nazionale che quella regionale e quindi unanimemente si è deciso di rimettere questi poteri al Commissario delegato che è il Presidente della Regione Chiodi che ha nella sua delega di Commissario questi poteri per poter agire in via sostitutiva. Quindi oggi abbiamo già individuato tre siti di quattro che pensiamo siano necessari per risolvere il problema complessivo, abbiamo individuato una strategia, tra dieci giorni ci ritroveremo qui per verificare appunto cosa è stato fatto e quali sono le difficoltà, speriamo di non incontrarne. Grazie, grazie.